serenità e anche costruirsi delle certezze per noi stessi e per le persone che ci stanno accanto per essere sereni basta poco tomasello maurizio assicurazioni rc auto rc professionale previdenza vita casa salute protezione lavoro risparmio protezione famiglia infortunio tomasello maurizio assicurazioni anche per iscrizioni auto storiche e polizze storiche e per te anche lo sconto di benvenuto del 50 per cento tomasello maurizio assicurazioni via roma 37 melito portosalvo info 348 37 74 894 oppure 338 77 56 306 assicurati e sereni